Per partecipare al campionato nazionale di serie B1, Femmini. Applausi qui in sale, man mano che le chiamo, le prego di alzarsi. Alcune giocatrici faranno parte del roster del prossimo anno. Partirei da quelle che c'erano già la stagione passata, rigorosamente in ordine alfabetico. Ambrosio Ricci, Camaragena Ricci, Nera Palloro, Volando Ricci. Abbiamo anche qua con noi questa sera due delle new entry che saranno con noi il prossimo anno, ragazze del territorio premottese. Anche qui in ordine alfabetico, Batte e Eleonora. E qui concludo. Lascio spazio ad altri. Alle nostre atlete noi vogliamo dare una prospettiva futura, non soltanto sportiva. Vogliamo dare una prospettiva culturale, educativa e di vita. Grazie. Grazie. Grazie.